Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Novena a San Charbel. Settimo giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh San Charbel, da tutti amato, tu vieni in aiuto di tutti coloro che hanno bisogno di te. Dio, pongo tutta la mia fiducia nella tua intercessione. Impedra per me questa grazia di cui ho molto bisogno. Nominare la grazia. Amen. Oh San Charbel, stella che guidi gli smarriti, prega per me. Oh Dio, i miei innumerevoli peccati impediscono che le tue grazie possano giungere a me. Concedimi la grazia di espiare per essi. Dammi risposta alla intercessione di San Charbel. Dà al mio cuore triste la gioia e accogli la mia preghiera. Dà al mio cuore triste la gioia e accogli la mia preghiera. Oh Oceano, di tutte le grazie. A te l'amore e la lode per sempre. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera quotidiana in onore di San Ciarvello. O Dio buono, misericordioso e amorevole, mi prostro dinanzi a te e ti mando dal profondo del mio cuore una preghiera di ringraziamento per tutto ciò che mi hai concesso per intercessione di San Ciarvello. Ti sono molto grato, o amabile San Ciarvello. Non trovo le parole giuste per esprimere il mio riconoscimento per il beneficio ricevuto. Aiutami sempre, affinché sia sempre degno della grazia di Dio e di meritarmi la tua protezione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.